Cari amici, buona giornata. Oggi volevo farvi vedere delle cose diverse. Volevo farvi vedere come cresce bene, è bella la cipolla egiziana Ligure. Volevo farvi vedere che mi è arrivata ieri il giorno del mio compleanno la nuova motocariola giapponese, quella definitiva, e invece sono quasi mezzogiorno, ci sono 18 gradi, c'è una nebbia fitta, piovigina, fa freddo, e allora mi è venuta voglia di spaccare un po' di legna, e non è detto che magari se continua così magari si debba accendere la stufa un po' prima, non credo perché magari il tempo è strano, magari fra due o tre giorni c'è di nuovo il sole e fa di nuovo 30 gradi, ma a ieri sera e oggi no, non direi proprio. E allora vi faccio vedere che spacco un po' di legna, il macchinario che utilizzo, la legna che utilizzo, che è quella che ho portato giù l'altro giorno con la motocariola. Buona visione a tutti, ciao! Buona visione! Buona visione! Questa è ovviamente la misura della legna che preparo per partire, non è quella che utilizzo poi per scaldare nello stufone, per quello che la faccio piccolina. Allora... Buona visione! A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.